Perché mai si è seduto sulla panchina di una squadra impegnata nelle coppe europee. Pallavolo, Rana Verona si muove ancora in entrata e annuncia il ritorno di Jensen. Il secondo rinforzo di Rana Verona è un ritorno. Mats Jensen vestirà di nuovo la maglia giallo-blu dopo la stagione passata in A2 alla San Bernardo Cuneo. L'opposto danese di 25 anni ha già giocato per tre campionati al Palo Olimpia prima di andare in prestito in Piemonte. Ora sarà il vice di Keita. C'è grande soddisfazione da parte mia perché ho percepito la volontà da parte della società di avermi ancora nel roster, ha commentato il giocatore. Verona rappresenta una seconda casa per me. È la città che mi ha accolto in Italia e che mi ha permesso di proseguire ad alto livello e nel miglior campionato al mondo il mio percorso di crescita. Ho sempre ricevuto affetto e sostegno da tutto l'ambiente e quindi per me è come tornare in famiglia. Classe 1999, alto 211 centimetri. Jensen è cresciuto nel Grand Theft Volley, disimpegnandosi come palleggiatore prima di spostarsi poi negli Stati Uniti e giocare con UCLA che partecipa al massimo campionato universitario americano. Nel 2020 la Prodo a Verona con cui ha ottenuto una salvezza e sfiorato una semifinale scudetto. La scorsa stagione a Cuneo si è affermato come uno dei top scorer del torneo, chiudendo come quarto miglior realizzatore, secondo per numero di attacchi vincenti. Jensen incarna perfettamente i principi che come Verona Volley cerchiamo di trasmettere quotidianamente, ha evidenziato il presidente Stefano Fanini. Oltre ad essere un atleta di assoluto valore a livello tecnico, è anche una persona di grande spessore, aspetto per noi fondamentale all'interno delle dinamiche di un gruppo di squadra. Conosciamo Mazz da tanti anni e sappiamo l'apporto che può dare sia sul campo che nello spogliatoio. Lo riaccogliamo a braccia aperte.